Il ministro dell'interno Piantedosi è stato raggiunto da una telefonata di congratulazione del presidente Mattarella ad Ancara dove si trova in visita. Allora andiamo in diretta con l'inviata Carmela Giglio. Sì, la notizia dell'arresto di Messina Danaro ha finito davvero con lo stravolgere e dominare i lavori del vertice che il ministro Piantedosi ha avuto qui al ministero degli interni con il collega Soilu. Piantedosi ha voluto ringraziare la magistratura, le forze dell'ordine ma ha usato toni particolarmente toccanti, commossi nel ricordare le vittime della mafia e i familiari delle vittime che non si sono mai resi alla paura non hanno mai smesso di aspettare che fosse fatta giustizia. Sentiamo le sue dichiarazioni ai nostri microfoni. Esprimo da qui la mia più grande soddisfazione, la più grande felicità per quello che è avvenuto. Per gli italiani che non hanno mai smesso di credere nella giustizia e nella lotta contro la mafia. Questo è uno dei segnali, io lo dico spesso su altri versanti, anche per certi versi meno gravi. Molto spesso si tende a giudicare il lavoro, il grande lavoro che fanno gli inquirenti, la magistratura, le forze di polizia, anche solo con un'eccessiva concentrazione a ciò che non si riesce a prevenire. In realtà questo è uno dei segnali che viene dato del fatto che le forze di polizia, il sistema di giustizia, insomma, delle forze di polizia italiane è una delle eccellenze del nostro paese. Quindi i cittadini devono essere certi che tempo ci vuole ma la giustizia arriva.